Ok, bene, siamo live, buonasera a tutti, io sono Roberto Reale, Presidente dell'Associazione Eutopian, abbiamo l'onore di avere stasera l'imam di Firenze, Iselin El-Zir, che ringrazio, ringrazio veramente di cuore di essere qui, di darci la possibilità appunto di questo dialogo, come sa chi ci segue, noi come associazione ci occupiamo di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile, naturalmente vogliamo farlo mantenendo aperto un dialogo con tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte della società civile, quindi abbiamo avuto in passato, lo dico anche a lei, ma abbiamo avuto in passato esponenti del mondo giuridico, del mondo della tecnologia, del mondo dell'impresa e abbiamo avuto da poco anche un esponente della Chiesa, della Chiesa Cattolica, che ci ha un po' raccontato il punto di vista appunto del Papa e il suo. Vorrei appunto stasera con lei parlare un po' di qual è appunto la posizione dell'Islam italiano naturalmente, o anche dell'Islam in generale, sui temi che su cui siamo un po' chiamati, saremo chiamati nel prossimo futuro a prendere posizione e chiaramente l'innovazione è uno di questi, l'innovazione che poi ha tantissime conseguenze, tra le quali anche un cambio molto forte nel mercato del lavoro e poi anche ad esempio il tema della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente e della vita. Bene, Iman, io inizierei appunto dal tema dell'innovazione. L'innovazione ha ridotto le distanze, sta riducendo le distanze, per esempio stasera noi abbiamo la possibilità di parlare via Zoom, siamo a migliaia di chilometri di distanze, perché sono a Dostel, lei immagino sia a Firenze, però possiamo appunto parlarci e possiamo anche parlare a chi ci ascolta. Però naturalmente come qualunque strumento ci sono naturalmente però è poco. Lei come rappresentante dell'Islam italiano, peraltro lei è stato anche Presidente dell'Unione, questo magari non puoi ci raccontare, può dirci se esiste un pensiero elaborato appunto all'Islam italiano sul tema dell'innovazione. Ti ringrazio, è un argomento molto interessante. l'innovazione è una parte integrante di unifede religiosa, perché se non c'è innovazione vuol dire la religione è già morta, perché il DNA dell'uomo, dell'essere umano, di rinuovarsi in ogni giorno, non realmente in ogni secondo. Certamente quello che dobbiamo tener conto nell'innovazione è la centralità dell'uomo e quando parlo dell'uomo tendo maschio o femmina. Questa centralità molto importante che spesso, purtroppo nel sistema industriale, nell'ultimi cento centocinquanta anni, questi cambiamenti hanno messo l'uomo all'interno, ma con obiettivo diventata la questione della sostenibilità dell'interesse dell'uomo, è il mezzo ma non è la fine. Perciò è uscito l'argomento del sviluppo sostenibile negli ultimi più o meno 70-80 anni, perché l'uomo ha cominciato a andare oltre i suoi limiti o più che altro i suoi atti di responsabilità, perché il pensiero islamico crede che l'uomo deve essere libero, perché la libertà è un principio che aiuta a avere il sviluppo sostenibile e aiuta all'innovazione, ma questa libertà è una libertà responsabile, non è una libertà di liberarsi delle nostre, diciamo, fede religiose o anche non fede religiose, anche le nostre credi. Una dei crisi che stiamo soffrendo oggi a livello mondiale è che noi non crediamo in niente, crediamo negli interessi, perciò è diventata la questione dell'innovazione come se fosse una questione che va contro l'interesse dell'uomo in una parte e dall'altra parte l'innovazione come fine, che non è come un strumento per creare un ambiente nuovo. Poi sta dimostrando il Covid-19, questa pandemia che stiamo vivendo, che abbiamo bisogno di questa tecnologia, abbiamo bisogno del digitale, abbiamo bisogno di questa, diciamo, che il mondo ormai è diventato un piccolo paese, ma tocca a noi di essere responsabili. Infatti il pensiero islamico lavora sull'uomo e qui sottolineo, essendo che sono imam, quando parlo di uomo tendo maschio, femmina, perché spesso quando parla un musulmano è l'uomo mafio, perché i musulmani sono contro le femmine. Ci sono dei prugidizi storici, ma anche di fatto perché in diverse parti del mondo arabo-islamico purtroppo manca la libertà. Ho visto che avete fatto, mi sembra, anche qualche incontro sulla democrazia, che è molto interessante. Allora, quando manca la libertà in una società, certamente si vede di più questa mancanza di libertà, in particolare sulle donne. Questo non è l'islam, ma purtroppo il sistema detto politico, realmente il sistema di questi paesi a maggioranza musulmana, che hanno dei dittatori, che la libertà, sappiamo il dittatore fa parte del suo pensiero anti-democrazia, anti-libertà. Ma tornando alla domanda, abbiamo bisogno di questa tecnologia, abbiamo bisogno di... grazie a questa tecnologia oggi sto parlando con voi, come sto sentendo voi, come ho potuto anche tornare a vedere cosa avete fatto, diciamo, in precedenti incontri per essere un pochino preparato anche per questo incontro, e questo grazie alla tecnologia. Perciò, allora, la tecnologia è un strumento. Se l'uomo preparato lo usa, strumento per il bene dell'umanità, se l'uomo non è preparato, purtroppo può usare questo strumento contro se stesso, contro l'umanità. Io do un esempio molto semplice, il cortello. Il cortello al tavolo lo possiamo usare per mangiare e il cortello, purtroppo, possiamo usarlo per uccidere. E allora, la tecnologia è lo stesso, è strumento. Pende da noi, perciò dobbiamo appoggiare la tecnologia, dobbiamo fare sì che la tecnologia diventa una parte integrante della nostra vita quotidiana, ma dobbiamo essere responsabili noi, dobbiamo essere educati noi. E questo è il compito, credo, di una fede religiosa della scuola, della famiglia, che è la prima casa, diciamo, di educazione, ma anche della società, della mass media, di tutti che lavorano nel campo educativo e formativo, di preparare l'uomo. Perché se noi prepariamo l'uomo, allora non dobbiamo avere paura dell'innovazione, non dobbiamo avere paura della tecnologia. Se l'uomo non è preparato, certamente avremo paura di tutto. Bene, Imam, lei è un volto molto, molto noto in Italia, quindi non solo a Firenze, ma solo in Toscana, ma un po' in tutta Italia, come se vogliamo, appunto, tra i rappresentanti più, ecco, più, 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 ricordi al grande pubblico dell'Islam. Secondo lei, l'uso dei media digitali, anche le media tradizionali, se vogliamo, ecco, la parte dell'Islam in Italia, è adeguato rispetto all'esigenza di diffondere conoscenza su cosa avviene della comunità musulmana? Allora, prima del Covid-19, l'uso della tecnologia del digital era molto limitato nell'applicazione dove trovare la direzione della Mecca, perché il musulmano, quando prega cinque volte al giorno, deve interessarsi verso la Mecca, l'applicazione per l'orario della preghiera, diciamo, sono applicazioni molto limitate, si può dire. Dall'anno scorso, ormai da un anno, perché proprio da un anno, con Blockdown abbiamo dovuto cercare un modo di comunicare con i nostri fedeli. e abbiamo cominciato a usare questo programma che stiamo usando anche ora, Zoom, e altri programmi, diciamo, per comunicare con i nostri fedeli, perché stare, la prima volta, quasi tre mesi siamo rimasti chiusi, si poteva uscire per cose di emergenza, e abbiamo imparato di usare queste tecnologie che, devo essere sincero, sono stati molto molto utili. e oggi, direi, tutti i nostri incontri lo facciamo online. Prima si faceva qualche diretta Facebook, qualche cosa del genere, ma oggi siamo abituati di più, facciamo le nostre riunioni online ormai. non è che devo spostarmi da Firenze a Milano, da Milano a Roma, ma si può fare online. Certamente il contatto fisico è diverso, ma questo non vuol dire che realmente abbiamo risparmiato tempo, dinaro e fatica con incontri che si investiva diversi giorni, diversi centinaia di dinari, di euro, e anche fatica umana. oggi sono con voi da casa mia, diciamo. Normalmente dobbiamo andare a una sala, incontrarci e così via. Perciò questa, diciamo, situazione difficile, questa sfida che questo virus ha messo noi, abbiamo cercato come comunità islamica, ma direi come tutti gli altri cittadini, di accettare questa sfida e di dare il meglio di noi, certamente usando la tecnologia e comunicazione via web, ma anche dall'altra parte, questo anche importante, tornare alla famiglia, a scoprire il rapporto reale. Se io non ho questo contatto fisico con la gente fuori, ma posso averlo con la moglie, figli, di scoprire cose che i genitori, vi assicuro, può darsi negli ultimi vent'anni hanno dimenticato questo rapporto familiare, invece nel male ogni tanto si trova il bene. E verso l'esterno della comunità, quindi rispetto a, diciamo, gli altri, quindi chi non è musulmano, secondo lei c'è uno sforzo di presentazione della cultura e della fede islamica? In Italia intendo sempre, naturalmente, in modo che si arrivi a una conoscenza reciproca, oppure, perché da parte sua naturalmente questo non manca, lei è un personaggio pubblico e così via, però secondo lei appunto il mezzo digitale può diventare un terreno d'incontro appunto tra la comunità e l'esterno? Lui, realmente era prima del virus Covid-19, ma con questo virus è diventato ancora di più. Il mondo digitale, tutti i mezzi di comunicazione, social network, realmente sono un terreno di confronto molto interessante. Per l'altro, io oltre che imam o ex presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia, sono attuale presidente della Scuola Fiorentina del dialogo interreligioso, dove c'è questo logo che vedete dietro di me. Vi assicuro che c'è un grande interesse dai nostri concittadini di conoscere non solo l'Islam, ma anche queste fede che dialogano, che parlano insieme, perché purtroppo da quello che veniamo rappresentati dalla mass media, dai giornali in generale, il musulmano è terrorista, il musulmano è quello che comporta male con le donne. poi una visione sulla religione in generale, una visione che non rispecchia la realtà di queste fede religiose. Nella mass media si parla sempre di momenti di scontro, non è che dicano la falsità, per l'amor di Dio, ma si concentrano su un argomento, sulla cronaca nera, diciamo. Infatti quando uno va a leggere un giornale, se mette la cronaca nera come se fosse la vita di 24 ore su 24 ore, vuol dire che siamo tutti criminali, ma realmente non è così. Il giornale scrive purtroppo la cronaca nera perché noi andiamo a comprare il giornale per leggere la cronaca nera. Perciò non è la colpa dei giornalisti, ma prima la nostra colpa, colpa, o il nostro difetto, essendo solo musulmano non uso parola colpa, dei nostri difetti, che noi vogliamo vedere le cose negative che ci sono, invece ci sono migliaia, migliaia, migliaia di cose positive, ma quella non fa notizia, come sappiamo. Perciò abbiamo bisogno di riducare noi stessi. E non è facile, non è facile e non è casualmente. Nell'Islam si chiama questo il jihad più grande. E qui sottolineo, il jihad non è la guerra santa. Le guerre sono sporche, non esiste una guerra santa. Il jihad sarebbe il sforzo. Il profeta Muhammad l'ha chiamato il più grande, la pace sia con lui, perché è un sforzo con te stesso per rieducarla. Perché noi, esseri umani, abbiamo bisogno di essere rieducati ogni giorno. E uno deve essere umile a dire io imparo in un istante, in un giorno, in un'ora. Non è che sono arrivato a certa età, ho dieci lauree, vuol dire che è già arrivato. Assolutamente no. E più che uno va avanti scopre che è ancora ignorante in diversi cambi. Ma di senso non sapere, non è ignorante di senso disprecettivo, ma nel senso di non sapere, per questo uno degli obiettivi delle religioni è proprio educare l'essere umano a essere veramente una persona umile. Perciò abbiamo bisogno di questa utilità che permetta a noi di dialogare con l'altro, di confortarci con l'altro. E certamente tramite il digitale, la tecnologia, e questo aiuta tutti quanti a trovarsi nell'agorà non reale, ma virtuale, di discutere quello che può darsi cinquanta anni fa era fra cinquanta persone e invece qui è fra migliaia e migliaia di persone. Bene, io vorrei provare a portarla su qualche tema un po' più verticale, un po' più tecnico. Non so se lei, diciamo, mai poi ha avviato delle riflessioni su queste cose, ma io ci provo lo stesso. Ad esempio sull'intelligenza artificiale. sa, insomma, se ne parla tantissimo. C'è chi teme che diventi una forza che non riusciremo a controllare, e chi invece è molto più ottimista. Però alcuni effetti pratici, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale li stiamo già vedendo. Ad esempio, ha visto che c'è stata questa sentenza, una sentenza abbastanza storica, legata a una discriminazione che le aziende che fanno delivery di tipo operano attraverso un algoritmo di fatto sui rider. A prescindere, diciamo, da questo episodio di cronaca, lei come vede, insomma, questo, che è uno strumento che ci aiuterà in qualche modo o qualcosa su cui fare attenzione? Allora, ripeto, l'innovazione non dobbiamo avere paura. La paura non aiuta, e vivere nella paura non aiuta alla crescita, non aiuta all'innovazione, non aiuta a creare un mondo nuovo. Rebeto, questi sono strumenti. L'Islam ha un altro valore in vita all'equilibrio. non solo parlato di libertà, giustizia, ma equilibrio. Uno non deve essere proprio sciolto, ma non deve essere chiuso. E questi meccanismi di equilibrio sono difficili, perché non è così facile trovare l'equilibrio. C'è bisogno di fare esercizi per trovare l'equilibrio. Il dialogo religioso interculturale è un modo per trovare l'equilibrio. Lavorare con i mezzi della tecnologia aiuta a trovare l'equilibrio, perché se non lavoro, allora non c'è questa questione. e la questione dell'intelligenza è oltre che bene perché aiuta l'uomo. Ma certamente aiutare l'uomo per vivere meglio, per trovare la sua felicità, non vuol dire che danneggiarlo dall'altra parte. Allora trovare questo equilibrio che, ripeto, l'Islam ha chiamato il jihad più grande, il sforzo più grande per trovare questo meccanismo di equilibrio. Noi abbiamo bisogno di questa intelligenza artificiale. Poi capisco che questa sentenza metti, diciamo, questo lavoro in difficoltà. Perciò il giudice deve dare le sentenze, ma tocca alla politica di trovare l'equilibrio. Invece noi in ultimi anni abbiamo lasciato al giudice di dare la sentenza, ma la sentenza si fa per dare una risposta a una cosa specifica. Ma la legge deve essere fatta per tutti, ma ci sono sentenze particolari per qualcuno. Invece noi, purtroppo la politica, essendo che non vuole essere responsabile, siamo la nostra politica in generale, parlo non tutti, ma purtroppo quasi, una politica che parla alla pancia delle persone, alla pancia del cittadino. Non cerca di ragionare, perché ragionare fa fatica oggi. E allora si lascia al giudice. Infatti la nostra giustizia purtroppo si trova in difficoltà. Delle volte abbiamo delle sentenze politiche, delle volte abbiamo delle magistrature politiche, ma non è colpa di loro. La colpa del politico che ha lasciato questo spazio a loro, non trovando dentro il Parlamento o il governo insieme, delle leggi che possano essere target per tutti, ma i giudici possano andare a discutere su casi particolari. E allora abbiamo bisogno del coraggio dei nostri politici di affrontarli in maniera seria, ragionevole, senza parlare alla pancia delle persone, ma alla mente e al cuore. Benissimo, è stato molto chiaro su questo. Posso chiederle, lei come esponente dell'Islam internazionale, quindi fuori dall'Italia, se ha qualche figura che lei ritiene appunto sia di appeal universale, qualcuno che il cui insegnamento possa essere fruito anche da non musulmani o in generale da persone di buona volontà? Allora, abbiamo diversi persone, posso citare un imam che ha vissuto diversi anni anche in Francia, dottor Ben Baia, che attualmente vive nei malati arabi, posso citare l'imam di Al-Azhar. Se parlo di senso religioso, se parlo di senso politico, no. Sono chiaro. Posso citare l'attuale presidente del Consiglio dei sabienti musulmani nel mondo che hanno come sede in Qatar. Posso citare il segretario della Lega Islamica Mondiale, dottor Al-Isa. Realmente ci sono diversi persone e ringrazio Dio che ci sono diversi e non uno perché sennò sarebbe guai per noi musulmani perché l'Islam è come tutte le fede religiose. L'Islam è uno, ma i musulmani ogni uno è uno. Anzi, due volte ogni uno, anche due. Diciamo, nel senso, nella mattina ha un'opinione, nel pomeriggio ha un'altra opinione, ma questo è umano. Perciò, grazie a Dio, abbiamo diverse correnti religiose. Non parlo, ripeto, non parlo di senso politico, ma parlo di senso religioso. Abbiamo diverse correnti, abbiamo due correnti grandissime, quella definita sonnita, quella definita sciita, ma poi all'interno di questi correnti abbiamo quasi infinite correnti all'interno che per me personalmente lo considero una grande ricchezza perché per me la diversità è una ricchezza, una risorsa. Abbiamo bisogno di essere educati a riconoscere che l'altro è una ricchezza, una risorsa. Non è facile. Se uno non fa un cammino di dialogo, di confronto, perché spesso noi pensiamo che il dialogo va a eliminare una parte della mia identità, come se fosse l'identità una cosa solida, come se fosse l'identità una cosa morta. Ma io, essendo che sono orgoglioso della mia identità, fiero della mia identità, non lo considero che questa identità muore. Vuol dire allora fluida, vuol dire che si cambia, vuol dire che si rinuova, vuol dire innovazione, quello di quello che stiamo parlando ora. Anche questa è innovazione. E poi l'Italia, da questo punto di vista, è anche un paese particolare. Noi storicamente siamo stati a cavallo tra cristianissimo e islam. L'islam ha permesso anche un po' la trasmissione e lo sviluppo della conoscenza in tutto il Mediterraneo, nei secoli in cui l'Europa ancora è un po' immersa in un momento di non particolare sviluppo. Quindi l'islam è stato comunque un momento molto forte. Pensi poi alla Sicilia, che è stata addirittura musulmana per secoli. Per secoli, sì. E la ricchezza e la bellezza della Sicilia, secondo me, sono anche legati a questo essere stato un nudo, un punto di frontiera e di intreccio. E mi permetto di fare anche una piccola nota biografica su di lei, perché so che lei è nato a Hebron. È giusto? Che è una città molto complessa. So che glielo chiedono anche spesso, ma è una città che è stata a teatro nel 94, di un famoso massacro. Tra l'altro è una città che è in Palestina. È oggi la ricorrenza? Ah, sì. Ecco, quindi, insomma, è un luogo non solo antichissimo, ma un luogo in cui la storia ha scorso tanto e è un luogo di frontiera a sua volta. Lei come vede? Questo non so se non ha tantissimo a che fare con l'innovazione, ma il nodo della questione... Mi dica pure se preferisce non toccare questi argomenti. No, no, ma entra anche nell'innovazione, perché spesso si pensa che è un scontro fra musulmani e ebrei. Non è vero. È un scontro fra occupante e chi si è trovato sotto l'occupazione. È un scontro fra un regime fascista con un popolo che lotta per la sua libertà. Perciò, dico una innovazione perché purtroppo, io grazie a Dio ormai sono fiorentino da 30 anni, perciò vivo la società nostra, fiorentina italiana, europea anche, si pensa che è un scontro fra i musulmani e ibrei e questi due gruppi fanatici si scontrano per il loro Dio qua di là. Non è vero. I palestinesi, un popolo da quando è nata la terra, sono palestinesi. Poi, quando è venuto Mosè con il praismo, una parte del popolo palestinese ha abbracciato il praismo. Poi, quando è nato Gesù, la pace sia con lui in Palestina, una parte del popolo palestinese ha abbracciato il cristianesimo. Poi, quando è venuto l'Islam, una parte di questo popolo palestinese ha abbracciato l'Islam. Perciò il palestinese è un popolo dove troviamo chi è ebreo, chi è cristiano, chi è musulmano, ma buttarsi la maggior parte del popolo palestinese non ha una fede religiosa neanche. Perciò, spesso dico, la questione palestinese è una questione di libertà, di diritti, non è una questione di religione. Poi, certamente, ognuno mette l'etichetta a quello che gli pare. L'ebreo, con Viani per lui, mette l'etichetta che questa è la terra di l'ebraismo, perché così convince gli ebrei nel mondo di andare lì. Se no, quale motivo che un ebreo che vive in Italia o in Francia o in America lascia la casa sua e va a un altro territorio, se non usare il motivo religioso? Il musulmano, giustamente, per avere la forza, deve richiamare i suoi fratelli musulmani a livello mondiale. Dovete aiutarmi nel nome della fratellanza musulmana. Ma la base del scontro è un scontro che un popolo che è cittadino di tutto il mondo, come i musulmani che sono oggi cittadini di tutto il mondo, come i cristiani che sono cittadini di tutto il mondo, ma anche chi era comunista prima era cittadino del mondo, non è che era cittadino della Russia ex-Università Sovietica. Perciò, grazie a Dio, sono cresciuto lì, ma sono imparato in Palestina di non odiare gli ebrei. Sono imparato in Palestina di rispettare il diverso, l'altro. Sono imparato in Palestina di non chiamare quello che noi, purtroppo insegniamo nelle nostre scuole italiane, le cruciate, ma di chiamarle guerre dei franchi. Allora di non attribuire a una fede religiosa o a tutte le fede religiose una violenza che queste fede non hanno. Ma purtroppo l'uomo delle volte sbaglia e fa un atto violento, fa un atto terroristico, fa un atto criminale, ma non è la sua fede religiosa. L'uomo certamente cerca di mettere l'etichetta religiosa sulla sua azione per giustificare la sua azione, ma non ha niente a fare la sua religione. E tutto questo, credo, è innovazione. Questo, grazie a Dio, è imparato a Hebron, la città che purtroppo, come l'hai sottolineato prima, oggi la ricorrenza di quel massacro della moschea di Hebron, dove sono stati uccisi diversi amici miei. E dall'altra parte, quello medico ebreo che ha ucciso loro, lo conoscevo, per l'altro, perché mi ricordo quando lui è venuto da New York, l'unico negozio a Hebron che vendeva pane, kashir, diciamo, di senso che possano usare e mangiare il fratello ebrei, veniva a comprare da me. E allora io, ragazzino, dicevo in mente, ma come uno viene da New York a Hebron a vivere? Ma che fanatismo proprio, diciamo. Non riuscivo a capire. Infatti discutevo con lui, con il mio inglese, diciamo, scarso inglese. Poi sono venuto qui in Italia per studiare e ho sentito la notizia del massacro. dicevo, non potevo immaginare che un medico cresciuto a New York e viene a fare un atto di terrorismo contro persone che stanno bregando dentro un luogo sacro, anche per gli ebrei. Loro lo dichiarano che lì, perché si crede che la tomba di Abramo lì, vuol dire anche per gli ebrei, a massacrare 29 persone e ferire più di 100 fideli che stanno bregando senza un'arma, senza niente. Non riesco a comprendere, devo essere sincero. Infatti gli atti di terrorismo non credo che possano essere compresi. Sì, sono d'accordo con lei. Peraltro poi gli atti terroristici sono stati, se vogliamo, da parte un po'... Ecco, lei non vuole attribuirlo alle fedi religiose, però, insomma, se ne sono macchiati un po' tutti, anche noi per primi. Se mai io preferisco di chiamarli nome e cognome. Chi fa un'azione negativa... Sì, correttissimo. Questo del senso di fede, ma anche del diritto nostro, italiano, europeo, occidentale, un'impersona responsabile della sua azione. Non è la sua fede religiosa o la sua famiglia o la sua nazione. Un'impersona è responsabile della sua azione. purtroppo, per motivi politici, non è più così. Dobbiamo essere responsabili delle azioni che si fanno al nome delle nostre fede religiose o al nome delle nostre nazioni o al nome dei nostri paesi per giustificare atti estremisti, atti di violenza contro l'umanità che purtroppo l'abbiamo visto e vediamo è l'ultimo l'occesione del nostro ambasciatore, del nostro carabiniere, del loro autista atti di violenza o rapprescendere se hanno un fondo politico o hanno un fondo, diciamo, criminale, ma siamo lì. lei dice che il terrorismo non è mai religioso, è sempre una responsabilità, sono atti che hanno una responsabilità individuale o di organizzazioni, se vogliamo, criminali, organizzazioni politiche, ma che non hanno nulla a che fare con la religione. anche se loro giustificano, perché qualcuno giustifica la sua azione con mette l'etichetta religiosa, ma noi non dobbiamo dargli vinta, perché se noi diciamo sì e questo terrorismo islamico, quello terrorismo ebraico, quello terrorismo cristiano o quell'altro, vuol dire che abbiamo dato a loro la vincita e loro l'obiettivo di dividere questa umanità bianco-nero, muslomano o non muslomano, ebreo o non ebreo, cristiano o non cristiano, no, siamo tutti fratelli, siamo tutti un'unica famiglia umana, poi questa famiglia umana c'è un ramo che ha abbracciato l'ibraismo, un altro ramo il cristianismo, un altro l'islam, un altro il buddismo, altri hanno il pensiero, la fede dell'uomo, la fede della natura, ma tutti quanti siamo un'unica famiglia umana. Lei adesso appunto è fiorentino, è toschiano e lei sa che una toscana celebre, Oriana Fallaci, ha scritto negli ultimi mesi della sua vita delle parole delle parole abbastanza violente nei confronti dell'islam ed è vero che lei lo faceva all'indomani dell'11 settembre, però ad esempio ha una frase come questa lei come risponde? Le prevenzo che io non sono assolutamente d'accordo con quello ammiro la Fallaci ma questi libri, gli ultimi libri che lei ha scritto li considero non degni di lei, però ciò non toglie che appunto questi libri di lei li ha scritti e ad esempio una frase del tipo ecco se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Riad vincerà. Già qui mi dirà c'è un fraintendimento su quello che significa girare, però secondo me il punto non è se la Fallaci avesse ragione perché chiaramente lei appunto scriveva sull'onda della rabbia e poi non credo che conoscesse nonostante tutto l'islam nonostante nonostante allora io ho letto tutto quello che lei ha scritto anche in quello che ha scritto quello che ha scritto subito dopo l'11 settembre e la tragedia dell'11 settembre realmente l'altri libri ha cambiato versione un pochino più leggera diciamo è quello che l'islam ha insegnato di essere equo di essere giusto sapendo che l'equità la giustizia è difficile l'islam mi ha insegnato di parlare bene di chi è morto di non parlare male di chi è morto Fallacci ha scritto tantissimi libri nella sua vita a me piace ricordarla in quei libri non mi piace ricordarla quando era chiusa in un appartamento usciva per comprare 3-4 pacchetti di sigaretta al giorno quasi depressa quasi costretta a scrivere quei libri quello che realmente fa sì che uno si sente che abbiamo bisogno ancora di più dialogo abbiamo bisogno di più di confronto non lei o quelle che ha scritto negli ultimi mesi ma purtroppo quelli che hanno cercato di dire che l'Occidente è questo quelli che hanno voluto sfruttare la debolezza di una persona malata chiusa che esce per fare solo poche cose sfruttando la debolezza di una persona credo questo è il disumano credo questo che non fa onore a chi sfrutta le persone in questa maniera Fallaci è stata una grande scrittrice fiorentina toscana italiana ma direi anche mondiale ricordiamola per quello bene sono sono d'accordo con lei non evitiamo le sfrumentalizzazioni da ambo le parti non è non è stata però l'unica ma in Europa in Francia ad esempio dove la questione musulmane è molto molto forte forse più sentita ancora molto più sentita se vogliamo che in Italia però anche molto più dibattuta hanno spopolato libri ad esempio come la sommissione di Rebbeck in cui lui addirittura preconizza l'avvento di un islam egemone in Europa fermo restando che in teoria non questo scenario non sarebbe non sarebbe assolutamente diverso dall'avere che sono il cristianesimo egemone o qualunque altra religione fermo restando che forse la democrazia in quanto tale dovrebbe essere laica e accogliere tutte le fede ecco però a chi così agita un po' questo spettro a chi fa questa previsione lei lei come anche in Italia abbiamo forse politiche che giocano un po' su questa paura qualcuno abbiamo qualcuno abbiamo qualcuno ma finché uno scrive un libro di fantascienza è bello questi libri di fantascienza mi piacciono creativi abbiamo bisogno di questi personaggi creativi Roberto il discorso quando uno usa questi libri per creare la paura questi politici purtroppo essendo che non hanno un programma per il sviluppo sostenibile per l'innovazione del paese e allora il loro programma la paura e sfruttano questi scrittori di fantascienza che hanno tutto il diritto di scrivere grazie a Dio che viviamo nella libertà io ho iniziato condannando diversi paesi arabi perché vivano la non libertà vivano la dittatura ma fra la libertà di scrivere un saggio o un fantascienza è diventare un dibattito politico e questo è inaccettabile l'islamofobia che abbiamo in Europa o l'antisemitismo una cosa da non credere l'islam come ha sottolineato prima in Sicilia per quasi cinque secoli di confronto di dialogo ma di un valore aggiunto si è stato l'islam in Spagna per altrettanto cinque sei secoli è stato è un valore aggiunto poi possiamo criticare discutere certamente nei rapporti fra i popoli sempre c'è stato l'incontro se andiamo a verificare l'incontro era più di scontro era il 80% incontro dialogo valore aggiunto il 20% era di scontro certamente non dobbiamo negare la realtà ma abbiamo bisogno di lavorare veramente per cercare di diminuire non dico togliere perché la paura umana è saggia anche ma quando viene usata questa paura inaccettabile perché l'essere umano ha paura di quello che non lo conosce questa paura la dimensione finché ha una dimensione umana va bene ma quando viene scavalcata da qualche detto politico perché alla fine la politica non è questa la politica servire il popolo non impaurire i popoli e allora diventa veramente un fattore negativo essendo che stiamo parlando della tecnologia della net il hate speech online è una cosa incredibile ma anche qui ribeto non è la colpa della dell'internet è la colpa nostra io che sto dietro una tastiera e non ho il coraggio di affrontare questi argomenti in pubblico prendo un nickname un falso nome metto e comincio a divulgare il hate speech che verso i musulmani verso i ebrei verso tanti realtà delle nostre società abbiamo bisogno di elaborare progetti rieducativi perciò l'importante veramente dico della famiglia l'importante della scuola noi abbiamo in Italia una bellissima scuola ma certamente va rinnovata l'innovazione abbiamo tante cose buone belle ma abbiamo bisogno di lavorare sopra in Francia hanno paura del velo potete immaginare diciamo un paese uno dei più grandi del mondo ha paura del velo hanno paura dei simboli religiosi il velo non è un simbolo religioso attenzione ma mettiamolo come loro lo considerano un simbolo religioso cosa danneggia la kibba ebraica o il crocifisso cristiano e mettiamo anche il velo islamico che ripeto non è un simbolo ma una parte integrante della fede di chi lo che crede che lo mette in Francia purtroppo hanno creato dalla laicità un laicismo una nuova religione la laicità è una cosa molto positiva dove lo Stato garantisce per tutti i suoi concittadini la loro libertà anche religiosa invece in Francia purtroppo il laicismo è diventato una nuova religione allora tu devi credere come io credo allo Stato tu devi credere devi fare quello che io dico allo Stato e allora è una nuova religione ma fatta da noi uomini perciò è una dittatura certamente Francia non è una dittatura attenzione ma dico sistema perché grazie a Dio in Francia c'è una una bella libertà non vorrei diciamo che qualche francese mi sente e lo sente offeso diciamo diciamo un estremismo una forma di estremismo se vogliamo io tornerai dalla Francia a Firenze per concludere perché è il centro della sua della sua azione il centro anche del suo insegnamento della sua guida perché peraltro imam vogliamo dirlo che cosa significa imam proprio una guida non è un'autorità religiosa dovrebbe essere l'imam una persona autorevole ma non è un'autorità religiosa ma una persona quello che guida la preghiera che si mette davanti ai fedeli che deve essere accettato o nominato o scelto dai fedeli o da chi diciamo viene nominato dal viene eletto dalla comunità ecco Firenze è un ambiente sicuramente interessante sia perché insomma Firenze è un'esposizione internazionale ma anche perché è al centro io credo anche di un anche se vogliamo di un di sforzi che l'amministrazione ormai da anni anche non soltanto col mandato appunto di 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 dell'amministrazione e comunque sta facendo se vogliamo ricostruzione un po' di un dialogo lei può confermare questo ecco questa mia riscrizione si trova certamente io ringrazio Dio che la mia scelta di studio quando sono venuto dalla Palestina ho scelto Firenze non conoscendo devo essere sincero Firenze ma ormai da 30 anni sono cittadino fiorentino posso dire che abbiamo trovato Firenze un terreno fertile Firenze del rinascimento Firenze di Giorgio Labira Firenze del sindaco Morales del sindaco nostro attuale Dario Nardella dei fiorentini e dei cittadini certamente una città conservatrice ma se ti inserisci dentro questa società cominci a fare parte integrante di questo tessuto sociale culturale lo dico sinceramente se non mi sono trovato bene lasciavo Firenze subito ma sento che mi sono trovato bene da tutti i cittadini da tutti i partiti politici abbiamo un dialogo molto interessante dalle fedi religiose certamente in brimes dal diocese di Firenze poi anche da tutti i movimenti cattolici e non solo poi il dialogo con la comunità ebraica fiorentina con il mondo buddista fiorentino con realmente un dialogo a 360 gradi poi l'amministrazione comunale appoggia questo non è casualmente questa scuola di dialogo scuola fiorentina del dialogo religioso è stata voluta da il rabbino il cardinale come imam ma è stata anche accolta dal nostro sindaco dalla nostra amministrazione comunale con gioia realmente e con appoggio perciò personalmente sono fiero di essere cittadino fiorentino di essere fiorentino e di essere parte integrante è veramente veramente vissuto in Palestina 19 anni e a Firenze è 31 perciò uno può immaginare e ripeto se non mi trovavo cambio città o cambio paese anche bene bene imam io la ringrazio tanto anche a nome dell'associazione dei nostri ascoltatori di chi ci segue siamo davvero contenti e onorati di averla avuta ospite stasera grazie a voi è un piacere grazie a Coel buona serata buona serata buona serata grazie a tutti